già adesso che mi viene in mente faccio un altro pezzetto di registrazione sull'esempio delle maschere di delle maschere di gamma delle quali parleremo a parte comunque se andate su circolo d'arti trovate l'argomento maschera di gamma legato io lì ho tradotto con e ho tradotto scritto degli articoli con il permesso di gurney james gurney che è un disegnatore un illustratore americano eccezionale andatevelo a cercare gurney con la y tutta la sua tutto il suo discorso sulla maschera di gamma e su come creare una tavolozza efficiente che ti dia il massimo possibile di gambe di colore e di variazione di colore senza che ottenendo effettivamente quella e poi come si creano le atmosfere delle atmosfere di tonalità per espressive per suggerire una un'emozione per esempio questo è un esercizio che si può fare partendo da un'immagine addirittura facendola in bianco e nero e poi studiando scegliendo delle gambe sulla maschera di gamma che avrete fatto quando sarà finita scegliendo come dire selezionando certe zone si ottengono certe atmosfere selezionando altre zone se ne ottengono altre e così via ok questo è comunque un è un articolo interessante e la cosa interessante che di maschere di gamma ce ne sono molte per esempio questa questa è una ma una classica maschera di gamma che tiene in campo più o meno due zone di bistro una tendente al giallo e una tendente al suo complementare che il viola e questo crea un certo tipo di ambiente e queste gambe sono quelle che andrebbero sperimentate con l'esercizio della sfera e del 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 suo e del suo contesto questa è una prevediamone un'altra la stessa maschera di prima può essere usata spostata per selezionare il solo il colore totalmente saturo molto saturo e messo in contrasto con un bistro che è del complementare cioè questo qui è il complementare è il complementare però molto desaturato e questo di nuovo crea altri altri contesti questo è il viaggio che si fa con giocando con la maschera di contrasto la maschera di gamma questo invece è la quello che si può ottenere lavorando con un'estensione di questa di questa maschera di gamma che che si estende dai dal colore saturo al al suo complementare saturo e anche qui gli effetti e i risultati sono assolutamente notevoli in questo caso abbiamo una maschera di contrasto triangolare che è molto interessante perché può essere usata per capire un po meglio un concetto per cui praticamente i primari in questo caso sono questo è un primario ma si considera primario questo e questo no cioè il giallo questo qui non è più neanche un blu no non è più il blu o il magge o il ciano o è il la zona e rosso non è più il 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 rosso che che viene dal dal vermiglione più o dal rosso cadmio più la lacca di garanza ma è un altro tipo di e quindi si considerano secondari questi colori qui in questa maniera si agisce sul 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 lavoro con i chiaroscuri la cosa interessante di questo è un'altra adesso che questa maschera può essere fatta ruotare e qui con la stessa maschera si ottengono atmosfere completamente diverse adesso ve lo faccio vedere praticamente la cosa interessante di questo di questo sistema di maschera è che ruotando la ruota dei colori o ruotando il la maschera si possono ottenere atmosfere completamente diverse per esempio questa o questa e oppure sempre sulla rotazione spostando il triangolo vedete che ottenete delle gambe mascherate delle gambe limitate di colore che sono quelle più adatte al come dire sono quelle più adatte al alla resa di certe atmosfere peraltro lui nel libro e negli articoli che ho tradotto sul circolo d'arti di gurney cercate gurney o cercate maschera maschera di gamma o cercate anche solo maschera vengono fuori tutta la serie degli articoli che sono 4 o 5 nei quali lui spiega addirittura come si può usando questo sistema selezionare nella realtà capire nella realtà della nostra inquadratura qual è la gamma la maschera di gamma più utile che magari semplifica alcune parti ma che rende e che esalta la resa dell'immagine che stiamo facendo detto questo più o meno ho detto tutto per cui mi fermo e vi saluto spero che di aver se non ho detto tutto ricordatemelo e magari nella prossima lezione ripuntualizziamo qualcuno di questi punti ciao